barra stenditravi frontale la barra stenditravi frontale è realizzata in alluminio tubolare lunga 95 centimetri e con tre pettini esclusivi evo tripod da 30 centimetri l'uno fissati con viterie in acciaio inox anti corrosione i pettini con denti a profilo arrodondato ed interasse da 0 8 mm sono in plastica fosforescente per essere individuati anche al buio il sistema a pettine è il metodo più rapido pratico ed efficace per l'aggancio del grave la barra va alloggiata sulle gambe frontali dell'evo tripod grazie agli attacchi e t16 può essere fissata centrale oppure decentrata quando necessario in base all'utilizzo può essere alzata o abbassata a piacere ed in casi estremi anche raddoppiata da barra stenditravi frontale può essere anche personalizzata a piacere scegliendo colori alternativi dei pelli prodotta nelle versioni basic ed elite disponibili a piacere scegliendo colori